Buongiorno agli ascoltatori, la verità alle 7, questa è la resegna politicamente scorrettissima della verità, è giovedì e come ogni giovedì è un gran piacere ritrovare Francesco Gaglietti, Policy Sonar, che è già in collegamento. Buongiorno Francesco, come stai? Buongiorno Gaglietti. Attenzione però, non ti sentiamo benissimo, proviamo a risaltarci, a ridarci il buongiorno, vediamo se ora va un poco meglio, fantastico, eccoci qua, eccoci qua. Allora, un'altra giornata di coronavirus, anzi, verso le 21.40 di ieri, nel suo ormai bisettimanale messaggio in prima serata, Giuseppe Conte ha annunciato un passo in più, una specie di lockdown quasi totale, questa mattina sarà tutto chiuso tranne banche, uffici postali e naturalmente farmacie, alimentari, edicole, tabaccai, per il resto tutto chiuso. C'è anche però una preoccupazione sul versante economico, domani è atteso un Consiglio dei Ministri ancora avvolto nella nebbia. Facciamoci aiutare dalle aperture che abbiamo selezionato per costruire un sommario. La verità, Conte abbandona le partite IVA, il governo, virgolette, spara 25 miliardi di stanziamenti ma sono parole, non c'è ancora neppure il decreto da 12 miliardi e le tasse non vengono sospese, lunedì i commercianti già strangolati dovranno versare la rata. Annunciati i voucher per babysitter, così la verità. Vedremo il commento di Belpietro e il pezzo che costruisce scenari molto preoccupati e preoccupanti di Claudio Antonelli. Corriere della Sera, sull'annuncio di ieri di Conte, virus all'Italia adesso è blindata. Il fatto quotidiano con un Conte rassicurante è l'ultimo sacrificio, con riferimento alla decisione di ieri. Invece assai meno ottimista il giornale, l'ora più buia, Italia chiusa per virus, Conte cede, stop a negozi e locali garantiti trasporti e fabbriche. Naturalmente la scelta è un po' la medesima per tutti, la Repubblica chiude l'Italia e la stampa l'Italia chiude i negozi per battere il virus. Colgo l'occasione per ricordare quello che sui giornali italiani non fate in tempo a trovare, ma sulla edizione del Wall Street il giornale appena uscito, naturalmente sì, nella notte americana, quindi notte ancora più avanzata, alba italiana, Trump ha tenuto un discorso nel quale ha annunciato per 30 giorni il blocco del traffico aereo dall'Europa verso gli Stati Uniti. Francesco, ti chiedo una prima valutazione. C'è divisione, per la verità, in modo ultramaggioritario gli osservatori dicono sì, bisognava chiudere tutto, c'è una minoranza che è però scettica. Io non ti chiedo da che parte stai, ma ti chiedo una valutazione. Secondo te c'è sufficiente consapevolezza del fatto che se tu chiudi completamente l'economia di un paese, poi non lo ritroverai uguale a prima, quando sarà il momento, speriamo, non troppo lontano della riapertura? Questo è da sempre il dilemma con cui deve fare i conti chi è nel palazzo, chi è al potere, perché è ovvio, e ce lo siamo detti nelle ultime due puntate, nei due giovedì scorsi, che questo è prima di tutto un'emergenza sanitaria e seconda tutta un'emergenza economica, ma non è esclusivamente una cosa o esclusivamente l'altra. Soprattutto arriverà un momento che non riusciamo ancora a collocare nel tempo, in cui bisognerà fare le prove di ripartenza e purtroppo, darwinianamente, molte attività non ripartiranno proprio. Chiuderle probabilmente aiuta dal punto di vista del contenimento sanitario, ma renderà più difficile la ripartenza. Su questo ci sono scontate posizioni molto diverse nei giorni scorsi e con la consapevolezza di chi è uno stadio più avanzato del ciclo, lo vediamo anche negli altri paesi. La difficoltà con cui la Germania riesce a autodisciplinarsi dà molto da pensare. La Germania che fa fatica a staccare il campionato di calcio, la Germania che suggerisce ma non ordina. Sono tutti spezzoni di un film che noi abbiamo già visto non molti giorni fa. È così, è così. Allora, prendiamo per un momento il filo economico, poi naturalmente la cosa come tu spiegavi è super intrecciata, direi inestricabile, come legni di un cesto di vimini, la questione sanitaria è quella economica, ma sull'economia apre la verità editoriale di Belpietro e Giuseppi lascia per strada le partite IVA. Stessa musica per le tasse, anche in questo caso le dichiarazioni dei giorni scorsi sembravano particolarmente rassicuranti perché lasciavano intravedere la possibilità di regolare i conti con il fisco quando il Covid-19 fosse stato alle spalle. Ma purtroppo il fisco non ha nessuna intenzione di mollare la presa sul portafogli, dunque le promesse di una sospensione delle imposte in tutto il nord paiono destinate a rimanere tali. In particolare per il popolo delle partite IVA, vale a dire per i professionisti, gli artigiani, i commercianti, ossia proprio per coloro che rischiano di pagare a caro prezzo l'epidemia cinese. Così tra l'altro Maurizio Belpietro, pezzo che si appoggia alla analisi che fa Claudio Antonelli e che mette in fila un po' di cose. L'attesa per questo decreto, ieri il governo ha preso una decisione positiva, questo va detto, salutata anche dall'opposizione. Il teorico stanziamento che in prima battuta era di 3,6 miliardi e che poi era stato più che raddoppiato a 7,5, ora arriverebbe addirittura a 25 teorici miliardi. Però per il momento non una lira è stata effettivamente messa sul tavolo. Il governo dice domani, venerdì, ne saranno stanziati 12, gli altri si vedrà. Però fa notare Antonelli, il viceministro Misiani già dice che sarà difficile bloccare tutti gli adempimenti fiscali, ma attenzione, la scadenza del 16 marzo e quindi l'IVA trimestrale per chi ce l'ha trimestrale, l'IVA di febbraio per chi ce l'ha mensile, eccetera. L'anno scorso tolse dalle tasche delle imprese italiane 16 miliardi, a fine mese altra scadenza da 13, 16 più 13 fa 29. Francesco, come si fa quest'anno a togliere 29 miliardi dalle tasche degli italiani, famiglie, imprese? A me sembra francamente una cosa proprio fuori dalla grazia di Dio. Ma io non ho ancora capito il meccanismo di fondo. Probabilmente lo capiremo domani quando cominceranno a girare i testi del decreto economia. So che ci saranno, questo lo sappiamo tutti, perché abbiamo letto tutti, che ci saranno dei tentativi di dare sollievo, sospendendo alcuni tributi, ma soprattutto sospendendo anche mutui. So che c'è soprattutto un'esigenza molto pressante di iniettare liquidità o, se non iniettarla direttamente, garantire coloro che la iniettano e quindi verosimilmente ci sarà un ruolo forte della cassa di deposito di prestito come garante di ultima istanza. Però non so nulla di più e nessuno sa nulla di più, perché i giornali girano intorno alla questione dei giorni, a una fase iniziale in cui diversi politici si erano sbilanciati dicendo che sarebbe stata sospesa l'esazione delle imposte, di fatto il fisco sarebbe andato nel congelatore, ipotesi evidentemente impossibile per tutto ciò che dipende dalla fiscalità. A questa prima fase hanno iniziato a fare seguito dei bagni di realtà e tu hai citato Misiani, Misiani è stato più esplicito nel dire di non cullarsi in illusioni, quindi non solo non ci sarà la fine del fisco, il fisco ci sarà e poi c'è anche un tema molto più pratico, è la quantità di denaro, 29-30 miliardi, cioè la taglia è quella di un'intera manovra finanziaria, anzi delle entrate di una manovra finanziaria, le manovre devono essere equilibrate, questa cosa qui sarà molto difficile da far quadrare, è ovviamente un problema che riguarderà il dopo più che l'Iketnuk. Non c'è dubbio, non c'è dubbio, certo chi ha ognuno alle sue ossessioni, quella della microeconomia, dell'economia reale, io mi metto nei panni di un commerciante che ha fatto gli acquisti, ha i fornitori da pagare, i dipendenti da pagare, le scadenze fiscali, il direttore di banca che telefona, magari qualche cartella arretrata, non incasserà nulla e dirgli beh insomma forse avrai un parziale rimborso tra 12 mesi eccetera, nel frattempo arrangati significa che delle due luna o quello non riapre o si mette nelle mani di qualche strozzino di qualche criminale. L'Unione Europea, la verità oggi fa anche un pezzo su questo, diciamo se il governo non brilla l'Unione Europea proprio, usate voi il verbo, si mostra per quello che è, dopo una videoconferenza a 27 è stato deciso un ipotetico stanziamento di tutta l'Unione per tutti i 27 paesi di appena 25 miliardi su un bilancio pluriannale UE di 1.100 miliardi, la battuta migliore riportata nel pezzo della verità è dell'economista Kenneth Waterett che dice serviva il bazooka e questi hanno usato la cerbottana. Per dare l'idea, ieri invece il Regno Unito ha presentato il suo budget per il solo Regno Unito e il nuovo cancelliere dello scacchiere Sunac ha deciso una megaterapia d'urto, 30 miliardi di sterline. Vi segnaliamo il commento sul Telegraph di Alistair Heath che è un liberista pro mercato, dice ok noi siamo sempre per riduzioni di tassa, riduzioni di burocrazia, confermiamo questa richiesta al governo ma comprendiamo che in questa situazione occorreva comunque un mega stimolo sul piano degli investimenti pubblici. Francesco chiudiamo la parte economica e andiamo a quella tragicamente sanitaria. Qualunque giornale sceglierete di acquistare c'è la notizia dell'OMS che dichiara il Covid-19 pandemia globale e ci sono poi numeri obiettivamente impressionanti, i contagi inclusi, i morti e i guariti sono arrivati a 12.462, i ricoverati sono circa la metà, 5.800, 1000 sono i guariti e altrettanto quelli in rianimazione, i morti ahimè sono 827 con una percentuale ormai incredibile del 6,6%. Devo dire che sono molto belle e strazianti le pagine 10 e 11 del Corriere della Sera che raccontano i reparti dove si muore senza neanche l'ultimo saluto, ci sono delle testimonianze, avrei voluto dirgli papà ti voglio bene, qualcuno è riuscito almeno a fare una telefonata col respiratore, qualcun altro racconta di non aver potuto vedere il congiunto, sono storie strazianti. Francesco arriviamo alla conferenza stampa di ieri sera di Conte, la raccontano un po' tutti i giornali, per comodità io ho il pezzo a pagina 2 del Corriere di Monica Guerzoni, l'annuncio della chiusura e poi però anche una notizia politica che insomma desta un po' di sconcerto, la scelta di Arcuri come nuovo commissario, l'uomo di Invitalia. Francesco, Conte sembra essenzialmente preoccupato di transennare e circoscrivere il ruolo del commissario, di avere una figura subordinata anche in attesa della tornata di nomina e invece di presentare se stesso come il campione che fronteggia la malattia e parla direttamente col paese. Se lui è convinto di aver sgabolato alla grande, a parte il discorso con tutti i suoi preamboli, ariosi, il punto di fondo è che lui ha nominato un commissario che lui considera a sé molto vicino, è molto noto che tra i manager di Stato Conte abbia un feeling molto forte proprio con Arcuri. Non è una persona, poi le cose magari cambiano, ma diciamo che così lui non si sente minimamente insidiato da Arcuri mentre avrebbe avuto diffidenza, difficoltà con figure come Roberto Laso o De Gennaro. Arcuri ha delle specificità di curriculum che ha un taglio molto economico di approvvigionamento, di crisi d'incresa, di questo tipo di cose qui, quindi Conte ritiene in cuor suo di non aver messo commissario uno che gli possa fare opera e quindi ritiene di aver deviato in corner, per usare una metafora cupistica. Mi domando se sia ciò di cui ha bisogno il paese. Verosimilmente no, Arcuri è un buon menaggio di Stato, ma le circostanze secondo me legittimano ampiamente o un profilo alla Bertolaso o un profilo alla De Gennaro. Anche perché noi naturalmente quando ci si accosta agli aspetti medici, epidemiologici, eccetera, possiamo solo leggere e lungi da noi fare previsioni, osservazioni, eccetera, però se leggo su Repubblica, intervistato da Daniela Minerva, l'epidemiologo Paolo Vineschi, che lavora a Londra all'Imperial College e dice in Lombardia il picco ci sarà a metà aprile e oggi è solo il 12 marzo e capite bene che, ripeto, se questa proiezione, se questa analisi delle curve che noi preghiamo sia sbagliata e per eccesso, diciamo, ma se questa analisi fosse giusta, altro che 15 giorni come ultimo sforzo come raccontato da Conte, la cosa diventerebbe molto peggiore. Stupisce onestamente che un giornale come La Stampa, che ha sui temi di politica internazionale un approccio atlantista, metta sia in prima e poi in un pezzo che si distende a pagina 11 quasi il modello cinese come modello, così Wuhan ha vinto la guerra, GPS, zero trasporti e delatori, Cecilia, Atanasio, Ghezzi. Francesco, con tutta la buona volontà, ma come si fa a paragonare la legge marziale, il controllo pressoché militare, starei quasi per dire la segregazione personale praticata in Cina, peraltro su il 3-5% del territorio cinese, con l'applicazione di questo stesso metodo a un intero paese che sarebbe una liberal democrazia occidentale. No, è tremendo, è un modello sbagliato, è allucinante, diciamo che, ma questo non è che una delle tragiche cose che ci vengono scodellate dai nostri governanti, io direi che l'errore imperdonabile è quello di guardare a un modello come quello cinese su cui, come dire, c'è una caligine che tutto avvolge, c'è anche una robusta azione di disinformazione, di spin-doctoring cinese in azione. Massimo Introvigne in questi giorni ne ha scritto con grande chiarezza, cioè in buona sostanza, c'è l'intera rete diplomatica cinese che è stata richiesta da Pechino di relativizzare la realtà sulla diffusione del coronavirus e smettere, questo è l'ordine in partito da Pechino, non chiamatelo il virus cinese, chiamatelo, come dire, fate sì che si diffonda la narrazione secondo cui ci sono tanti ceppi, ciascuno dei quali autonomo è a sé stante, c'è il ceppo bavarese, il ceppo italiano, il ceppo francese, questo è proprio una direttiva di Pechino e gli italiani abboccano alla grande, si fanno essi stessi il megafono di Pechino, non vedono modelli di successo nel contenimento come, vogliamo parlare di democrazie? Taiwan, Israele, Singapore, ci sono tanti modelli di successo, perché proprio quello cinese? Non sappiamo niente di cosa c'è in Cine, i numeri non sono credibili, nulla di ciò che viene propagato da Pechino è credibile, questa è una delle micidiali tragedie della nostra classe dirigente attuale, la propria sinizzazione totale. Allora, qualche segnalazione, poi ci sono quattro commenti che abbiamo selezionato per voi, molto diversi l'uno dagli altri. Le segnalazioni, Alessandro Darold sulla verità, sente Giulio Gallera, l'assessore al welfare e alla sanità della regione Lombardia, che rimprovera a Conte il ritardo in alcune scelte, Conte ci sta costando del tempo prezioso. Mentre Massimiliano Scafi sul giornale, nell'unico pezzo che oggi riporta le voci dal colle, anzi in questo caso i silenzi dal colle, fa capire che il silenzio di Mattarella è un modo per avallare e addirittura blindare il ruolo di Conte in controtendenza con le voci che, ricorderete un pezzo della Guersoni di tre o quattro giorni fa, accreditavano invece un favor anche del Quirinale per una figura commissariale forte. Francesco Borgonovo sulla verità coglie le contraddizioni di una figura come quella di Giorgio Gori, il sindaco di Bergamo, che ieri ha lanciato messaggi impressionanti su Twitter, costretti a scegliere tra un malato e l'altro, però ricorda impietosamente Borgonovo e fino a qualche settimana fa postava foto al ristorante cinese Gori e invitava a muoversi. Adriano Scianca lancia un allarme, non ci sono solo le carceri con tutte le rivolte che già conosciamo, ma c'è pure il tema dei centri di accoglienza come bombe sanitarie. Anche lo sport viene colpito, questa notte è stata fermata l'NBA, il campionato di basket americano, ma rischia di finire male anche la stagione del calcio europeo. Oggi farà rumore tra gli sportivi, tanti auguri all'interessato e la positività di un calciatore della Juventus, Rugani, il che vuol dire che tutta la Juventus, ma anche l'Inter che ha giocato contro la Juventus, devono farsi almeno 15 giorni di quarantena. A questo punto l'incastro dei calendari italiani ed europei diventa sempre più difficile. Un lutto che ha colpito molti alla morte di un medico, il presidente dell'ordine di Varese, medico di famiglia Roberto Stella, che è letteralmente morto assistendo i suoi pazienti nell'ambulatorio. Invece tanti auguri a Nicola Porro che racconta sul giornale la sua vicenda, viene sentito da Luigi Mascheroni e racconta anche con ammirevole spirito i problemi, non piccoli, perché dice Porro la mattina mi sento bene e poi invece la sera mi sento come se mi fosse passato sopra un tram, non riesco a leggere né a vedere, ho 38-39 di febbre, tossisco, quindi Porro sia pure con eleganza e senza drammatizzazione, però ci fa un quadro davvero pesante della situazione. Tanti auguri a Nicola e a tutti quelli che stanno affrontando questa vicenda. I commenti che abbiamo selezionato per voi, l'unico che ci ha convinto, lo diciamo con molta franchezza, è quello di Francesco Galietti, nella sua rubrica del giovedì su Italia Oggi, che ragiona sulla governance italiana. È dunque molto particolare lo stress test a cui l'architettura di potere italiana è sottoposta in queste settimane, la giustizia e l'educazione sono se non sospese ridotte a lumicino, il Parlamento lavora a scartamento ridotto, si moltiplicano le sollevazioni dei detenuti nelle carceri, sinistro segnale che si è inceppata anche la logistica illegale di approvvigionamento di droghe tra i galeotti. I partner europei ci tagliano fuori e temendo di trovarsi a breve nelle nostre stesse condizioni non mandano aiuti a sud delle Alpi. Conte si confronta indirettamente a Churchill, mentre Mattarella rivolge al paese appelli televisivi in cui appare a disagio, involontariamente ansiogeno. A ingombrare le loro menti è forse lo status biobellico che porta in misura crescente a una parziale sospensione democratica. Più verosimilmente a tenere sulle punte conta è l'idea che il perdurare dell'emergenza renda inevitabile un commissario con superpoteri che finirebbe per commissariare anche lui. Si arriva a invocare il soccorso esterno della Cina di cui si loda la determinazione nella gestione dell'emergenza ma si omette di ricordare che ne è stata l'origine e la conclusione che è un po' il cuore del ragionamento lavorita oltremodo cruda è che il sistema italiano frenante favorisce il mediocre che cerca eso sostegni anziché l'uomo determinato. Francesco forse è proprio su questa contraddizione che bisogna lavorare. Tu dici questo da un lato si è preso diciamo i pieni poteri, esattamente quelli contro cui come spauracchio, oddio oddio Salvini pieni poteri era nato questo governo, poi però al tempo stesso questi pieni poteri sono fragili e va in cerca di sostegni esterni. È così? Sì, è un sistema che cerca, che necessita strutturalmente del sostegno esterno perché è sempre stato così e che preferisce il sostegno esterno per puntellare la propria fragilità a farsi, come dire, a reggersi sui propri piedi. È così da tanto tempo. Lo è dalla sua nascita, dal secondo dopoguerra. Ci sono dei puntelli esterni che ci accompagnano storicamente, si pensi all'influenza esterna del Vaticano. Ci sono degli svuotamenti che si sono accavallati nel tempo, come la nascita delle regioni che ha tolto a Roma e dato alle periferie, ovviamente c'era la maxicessione di sovranità all'Unione Europea. Ma è un sistema che, diciamo così, è un sistema che è l'esatto posto della Costituzione di guerra, superplessibile, superresiliente, che invece caratterizza Israele. Netanyahu è sideralmente lontano dal modello italiano. Senti, ci sono altri tre commenti che, insomma, lo diciamo, non è giornata di sarcasmo, ma insomma non ci hanno convinto per niente. Due supermelassati, Walter Veltroni, che ha un libro in uscita e quindi, insomma, a valanga, si distende nelle pagine dei giornali. Oggi, in prima e poi sulla pagina dei commenti del Corriere, arriverà il dopovirus, solo insieme ricostruiremo. Esattamente un po' la caricatura del Veltroni di Crozza, ve la ritrovate qua. Anche noi, ciascuno di noi, uscirà diverso da questo inimmaginabile incubo. Sulla rete, in cui ormai dilagava quotidianamente l'odio, si sta facendo strada a un nuovo sentimento. In rete ci sono insegnanti che non interrompono il loro lavoro, attori affermati che la sera leggono poesie, cantanti famosi che fanno concerti improvvisati, maestri di yoga o di piano che forniscono lezioni via smartphone. Tutti capiscono che oggi bisogna dare qualcosa di sé agli altri. Se lo zucchero non basta ancora, Michela Marzano su Repubblica, Arcobaleni contro la paura. La sinistra è specialista di Gessetti dopo gli atti terroristici, ora di Arcobaleni. Un messaggio controcorrente, quindi soprattutto se si pensa al cinismo e all'individualismo, ecco, ci mancava l'individualismo, che nel recente passato hanno caratterizzato atteggiamenti e scelte di molti di noi, così la Marzano su Repubblica. Invece, tutt'altro registro fiammeggiante, quello di Marco Travaglio, che nel suo sforzo di dire che questa è la migliore situazione possibile, che conta il miglior premier possibile, eccetera, oggi fa tre scenari. Dice, guardate, state attenti che se non avessimo fatto quello che è stato fatto, sarebbe finita peggio. Fa tre ipotesi. Una è quella di Bertolaso che ci avrebbe portato a Balducci e a Nemone, quindi Travaglio subito era già pronto a partire con gli avvisi di garanzia, ma poi l'ipotesi più preoccupante è la prima che fa, nella sua ottica, Travaglio. L'estate scorsa, dopo la crisi del papete, il PD poteva seguire gli amorevoli consigli di Repubblica, espresso, stampa, messaggero, corriere. I Cinque Stelle, anziché Grillo, danno retta a paragone. Mattarella si attiene alla scuola di pensiero costituzionale di sallustri, feltri, sgarbi, maglie e capezzone. Si va alle elezioni anticipate a novembre, Salvini vince, forma il suo primo governo, con B, Meloni e i loro statisti. È una catastrofe. Ora, va bene, Travaglio è spiritoso e cercheremo di esserlo anche noi. Però forse, Francesco, anziché buttarle in caciara e fare i fenomeni, avere un governo di destra e di sinistra non me ne frega niente, ma scelto dai cittadini e con una forte legittimazione popolare, oggi avrebbe messo l'Italia in una condizione forse di migliore sicurezza rispetto alla fragilità attuale, no? Sì, uno dei grossi problemi è proprio questo, cioè il trovarsi in una situazione di emergenza è uno stato di eccezione, ma poi se si sale la catena di potere, più si arriva in alto e minore è la legittimazione democratica. Cioè, Mattarella ovviamente una sua legittimazione ce l'ha, perché il Presidente è eletto da un Parlamento, però è un Parlamento sbiadito, non ricordo lontano, un individuo la cui storia affonda le sue radici nella Prima Repubblica e soprattutto il problema di fondo è che il Presidente del Consiglio, che è quello che gestisce la quotidianità, è questo Presidente del Consiglio, non è nemmeno un parlamentare e questa cosa qui oggi mostra la corda e Conte prova a farcela dimenticare questa cosa, ovviamente, però è lì, come dicono gli inglesi, the elephant in the room, l'elefante nella stanza, non si può non vederla. È così. Allora, siamo in chiusura. Due segnalazioni conclusive. La prima, qualunque giornale sceglierete di acquistare, vi racconterà che Biden, l'ex Vice Presidente dell'Amministrazione Obama, è ormai vicino alla nomination democratica, perché dopo il grande successo dell'altro martedì, nel super martedì, ha bissato questa settimana nel cosiddetto mini super martedì, che includeva altri stati, tra cui il super simbolico Michigan, dove è pieno di operai, eccetera, nel 16 Sanders aveva battuto la Clinton, invece stavolta ha vinto Biden e sembra essere un punto di svolta per la nomination democratica. Ora, il vero avversario di Trump è il coronavirus, vi abbiamo raccontato del discorso di questa notte di Trump, su questo cercherà di incunearsi Biden, che terrà tra oggi e domani un suo discorso sul coronavirus. Mentre, ultima segnalazione, tornando alle cose italiane, ed è una di quelle cose che in tempi normali avrebbe fatto l'apertura delle prime pagine, ma voi leggetela con attenzione, ed è un modo per rinvitarvi a prendere la verità, Camilla Conti, le questioni bancarie, vi ricordate la crisi della Popolare di Vicenza, eccetera, e c'è stato un ok al processo nei confronti di Banca Italia e Consob, insomma, i soci di Popolare Vicenza potranno fare causa, c'è stato il sì della Cassazione e c'è una richiesta di 60 milioni, Camilla Conti vi racconta tutto, e anche, diciamo così, gli sviluppi successivi di questa vicenda. Allora, il nostro tempo è finito, a me restano solo 30 secondi per ringraziare chi ci ha seguito e per ringraziare in modo speciale Francesco Galietti. Buona giornata e buona settimana, Francesco, a presto. Ciao Daniele, buona giornata, buona settimana a te e i nostri ascoltatori. Ciao. Grazie a tutti, noi ci risentiamo questa sera alle 19 e parleremo proprio di cose americane con Stefano Graziosi.